Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Nell'incantevole cornice dell'Ise Morus Relais, in Sardegna, sta per prendere il via una nuova avventura televisiva che promette di tenere incollati allo schermo milioni di spettatori. Stiamo parlando dell'attesissima edizione di Temptation Island, il reality show che mette alla prova i sentimenti e la fedeltà delle coppie partecipanti. Tra i protagonisti di quest'anno, emergono Anna e Alfred, una coppia la cui storia da amore sembra essere già messa a dura prova ancora prima di varcare la soglia del programma. La loro relazione, iniziata quasi due anni fa, è ora sull'orlo del precipizio, a causa di mancanze, sospetti e tradimenti. Anna, spinta dalla frustrazione per le attenzioni non ricevute, e da una serie di scoperte scioccanti, ha deciso di mettere alla prova il loro legame. Le chat compromettenti trovate sul telefono di Alfred, le sue vanterie con gli amici riguardo serate in compagnia di altre ragazze, e infine la conferma di un tradimento, hanno gettato un'ombra cupa sulla loro unione. Nonostante le evidenti crepe nel loro rapporto, Anna confessa di essere ancora profondamente innamorata di Alfred. Il suo cuore combatte una battaglia contro la ragione, incapace di porre fine a una relazione che le ha causato tanto dolore. D'altra parte, Alfred lamenta una mancanza di fiducia da parte della sua compagna, un elemento che sta lentamente erodendo le fondamenta del loro amore. Questa coppia, come le altre che parteciperanno al programma, si troverà di fronte a una prova cruciale. Riusciranno Anna e Alfred a superare le loro divergenze, e a ritrovare la fiducia perduta? O il viaggio nei sentimenti di Temptation Island segnerà la fine definitiva della loro storia? Che ne pensate? Giusto per donare un tradimento? O meglio voltare subito pagina? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie! Grazie!